Grazie ancora a Jack, grazie a tutti voi che ci state guardando in questo momento, passiamo al secondo ospite, lo presento brevemente anche se sicuramente già il nome non ha bisogno di grandi presentazioni, ma è dirigente sportivo allenatore di pallavolo, direttore tecnico del settore giovanile FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo ed esperto di leadership, è con noi oggi, vediamo se si sta collegando, Julio Velasco, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, a intervistarlo ci sarà Alberto del nostro team, che è l'anima sportiva diciamo del nostro team, è pallavolista e quindi chi più adatto di lui per chiacchierare con Julio Velasco. Io vi lascio chiacchierare e ci vediamo più tardi. Grazie Nicole, buongiorno Julio. Ecco, subito entrando in questo tema dell'altro binario, appunto ora o come ora l'incertezza è un tema centrale della nostra società e del presente che stiamo vivendo. Le emozioni, la paura sono comunque delle componenti centrali dello sport in generale, quindi vorrei chiederti subito come possiamo gestire la paura e quali sono i consigli, come fare per agire e non paralizzarsi di fronte a situazioni di incertezza come quelle che stiamo vivendo. Innanzitutto devo dire che una certa dose di incertezza non va male. Le squadre che non hanno mai incertezze a volte sottovalutano l'avversario ed è quando prendono delle vatozze inespettate. Anche in questo momento storico, soprattutto nell'Occidente, nel primo mondo, nel paese come l'Italia, l'Europa in generale, gli Stati Uniti, si credeva che potevamo tutto e la vita ci ha dimostrato che a volte avere qualche incertezza, magari aver previsto qualche emergenza sarebbe stato più utile e questo ci deve aiutare in futuro. La seconda cosa è che secondo me la paura non deve essere negata, perché come molte cose che danno un'incertezza massima uno tende a negarle per sopportare quella… non bisogna negarla, bisogna accettarla, è umano avere paura. Chi non ha paura non è coraggioso, è inconsciente. Il coraggioso è quello che ha paura e riesce a dominarla, riesce appunto a non fermarsi e continuare a fare. E quindi bisogna riconoscerla, però bisogna accettare di soffrire quando uno ha delle situazioni di incertezza, di difficoltà, di paura, però non a subire. Qual è la differenza? Che io subisco quando non riesco a fare, quando ho la paura, l'incertezza o quello che ho, la difficoltà, mi controllano e non sono io a controllare me stesso anche nella paura, anche nell'incertezza, se no che tutto mi controlla, la situazione controlla me. Quindi che si può fare oltre a riconoscere questa paura? Innanzitutto credo che avere… cercando di avere determinazione, che vuol dire avere determinazione, vuol dire che io non lo so se ce la farò, però parto, vado. A volte la paralisi viene quando analizziamo troppo, vogliamo delle certezze assolute, tutti i calcoli ci devono dare il risultato aspettato, invece la determinazione che l'attività sportiva insegna tanto, ma anche gli esami, per esempio, insegnano tanto. Quanti studenti falliscono un esame perché pensano troppo a quello che non sanno, le vengono i dubbi, invece quelli che vanno, poco, molto che sanno, parlano, scrivono, non si fermano, questo vuol dire determinazione. Però la determinazione deve essere accompagnata da una preparazione, se noi non ci prepariamo, non ci alleniamo, non facciamo quello che dobbiamo fare e dopo molte delle persone che non si preparano sono quelle che hanno più certezze, più paure, perché si sentono poi nel momento concreto totalmente indifetti. E ci vuole anche l'aggressività, l'aggressività sportiva, che vuol dire l'aggressività sportiva? Che non è che ho bisogno di odiare al mio avversario per essere aggressivo, anzi sono aggressivo nel senso che gioco al massimo per batterlo all'avversario e dopodiché magari andiamo a prendere un avvio insieme. Questa è l'aggressività sportiva e ci vuole anche aggressività, perché? Perché l'aggressività produce endorfine, produce ormone che combattono la paura. Questo è assolutamente dimostrato, così come l'esercizio fisico combatte la depressione a livello ormonale proprio, uno è depreso, fatta in da fisica è meno depreso dopo di farla, dello stesso modo l'aggressività combatte la paura. E quindi noi dobbiamo essere aggressivi nel senso sportivo e quindi io mi ricordo quando ero piccolo, mia mamma mi mandava a volte nello stesso isolato, però insomma a 300 metri, a comprare di notte, di notte perché l'inverno, quindi alle 6 già era notte, qualcosa che le mancava per preparare la cena. E io avevo paura delle streghe, non so perché, non ho mai saputo perché avevo paura delle streghe, però ero orgoglioso, no? Poi noi non abbiamo avuto padre, avevamo tre fratelli, il nostro padre era molto piccolo, insomma, un po' forse mia mamma ci ha indotto a essere autosufficiente, non volevo dire che avevo paura. E quindi cosa facevo? Io andavo alla porta di casa, un, due, tre, e cominciamo a correre, ma a una velocità che credo che avrei vinto i tornei di atleti, finché arrivavo lì, arrivavo anzimando, compravo la cosa, di nuovo correndo e arrivavo a casa, era passata. Quel momento di partire, un, due, tre, via, quello è la determinazione che bisogna assolutamente avere. E per ultimo io credo che la mentalità vincente che aiuta a tutto si sviluppa, no? dicendo io sono forte. La mentalità vincente si sviluppa combattendo contro i propri difetti, i propri alibi, i propri limiti, combattendo contro loro e superandoli invece da girarli e combattendo contro le difficoltà. Questo dopo ci permette di affrontare gli avversari. Quell'allenamento di dire io ho un difetto, non è che posso risolvere tutti i difetti, ma scegliere uno. Ho questo difetto, devo vincere io. Ho questo limite, devo vincere io. Ho questa difficoltà, la devo superare. È un allenamento che poi mi permette anche di superare le paure. Fermo restando che paure ne avremo sempre ed è umano e anche positivo. Grazie, grazie. È veramente interessante. C'è determinazione e non farsi bloccare, ma cercare di affrontare i propri limiti, no? Non tirarsi indietro, non rifiutare la sfida. Appunto, sempre su temi che si connettono al mondo sportivo, ma che hanno dei risvolti appunto sulla società, sul mondo del lavoro, sul presente che viviamo. Un altro tema che volevo affrontare con te era quello della leadership e la gestione della squadra, no? Che sono anche questi dei temi centrali nel mondo dello sport, ma anche nel business, nella società, nella scuola. In questo periodo siamo stati costretti a gestire anche lavorativamente dei team e una squadra a distanza. Qual è un tuo consiglio per poter gestire al meglio una squadra, un team, non avendo il contatto fisico quotidiano e la vicinanza fisica? E soprattutto in questo contesto, secondo te, come possiamo gestire al meglio la fiducia e la responsabilità a distanza? Ma io credo che questo periodo ci ha arricchito a tutti, soprattutto a quelli come noi, allenatori, che siamo abituati a essere in contatto diretto. Altre professioni magari già lo usavano da tempo, no? Il lavoro da casa, molte aziende già lo usavano, la ricerca lo usa moltissimo, perfino i musicisti lo usano, compongono insieme in diversi punti del mondo attraverso l'interno. Noi siamo abitati di stare sempre con i giocatori, con i nostri collaboratori. Questa esperienza, almeno per quanto mi riguarda, mi ha aperto un mondo, nel senso che anche dopo questa pandemia utilizzerò i mezzi tecnologici per risparmiare tempo. Quante riunioni facciamo con gli staff, quante riunioni facciamo anche tecniche con i giocatori che possiamo fare adesso da casa senza che contaminiamo il pianeta, senza che perdiamo tempo. e quante volte vado a Roma a fare la riunione in federazione, da Bologna, penso di fare molto meno di più viaggi di utilizzare questi mezzi. Quindi vediamo anche la parte positiva di questo. Però è chiaro che questo ha sviluppato anche, sentivo una professoressa parlare con i vicini che hanno figli adolescenti, ha sviluppato molto la partecipazione e la responsabilità dei giovani che non possono andare a scuola. E così è stato anche per i nostri giocatori del settore giovenile, delle nazionali e i collaboratori. Io ho visto una maggiore partecipazione, una maggiore responsabilità invece di un amico. Però è chiaro che noi, quelli che siamo, diciamo abbiamo la responsabilità, siamo un po' il leader dal punto di vista dell'organigrama, della struttura delle squadre. Allora, a volte siamo noi che chiamiamo, tra virgolette, chiamiamo il problema, no? Diciamo, adesso che non vi vedo non fatti i pigri. Allora, lo sto incitando io a fare i pigri. Se io do per scontato, e questa è la fiducia, do per scontato che i primi che vogliono allenare sono i giocatori, che i primi che vogliono lavorare bene sono i collaboratori, perché come me hanno le stesse motivazioni, se non di più, perché sono ancora più giovani. Io non richiamo, al contrario, dopo l'escontato che lavoreremo. Il problema è come lavorare. Secondo me sono le stesse cose che nel contatto diretto, solo che se aumenta l'importanza di certe cose. Per esempio il fatto di stabilire delle priorità. Io non posso in una riunione online parlare di tutto, devo stabilire delle priorità. Allora, questo e due cose. Poche idee, non riempire. Io a volte quando vado ad alcune aziende a fare delle convention, vedo presentare un'idea che ci sono 30 circoli con un concetto in ognuno, con frecce che vanno in tutte le parti, perché tutto ha a che vedere con tutto. Tanto vale non fare un... Cioè, complicadissimo, non seguirlo. Invece il leader deve proprio semplificare, deve spiegare, deve usare un linguaggio che tutti capiscano. Non bisogna usare l'inglese se uno non è sicuro che tutti capiscono i termini inglesi, perché io ho fatto un corso online o in vivo negli Stati Uniti o in Inghilterra, perché chi non lo sa l'inglese non è che alzerà la mano e dirà io non so che vuol dire quello, non lo farà perché si argonia. Quindi il linguaggio fondamentale è non usare termini accademici che i giocatori, i collaboratori magari non conoscono. Devo presentare una cosa che sia molto chiara di dove vogliamo andare e come. Perché il leader non è altro che quello, una guida. Quindi il leader dice 20.000, però la prima cosa è dove vogliamo andare. Deve dire questo. Cosa possiamo fare oggi? Io mi sono stancato a sentire le cose che non si potevano fare. Tutti i giorni si parlava. Parliamo di quello che si potevano fare. Allora, quelle che si potevano fare con la pandemia, le abbiamo fatti tutti. Chi è che le ha fatte? Tutte quelle che poteva. e chi no. Allora, quello che no ha perso un'opportunità di crescere. Quello che l'ha fatto poi diventerà ancora più efficiente quando la situazione sarà più positiva. E il come è decisivo. Concretamente come lo facciamo? Si tende molto a parlare in generale. Cioè, bisogna migliorare sempre. Che vuol dire questo? Che vuol dire? Una dice un giocatore, ah bisogna migliorare sempre. E che significa in concreto? Cioè, cosa deve fare? Come lo deve fare? Quanto tempo lo deve fare? Quante cose deve fare? Perché se io le propongo dieci cose, come fa a migliorare dieci cose? E quindi il problema qual è? Che noi allenatori abbiamo smesso di giocare e ci siamo dedicati a questo. Full time a questo. Non possiamo giocare più. Invece nel mondo del lavoro, chi fa il leader, molte volte, soprattutto chi non è il leader, il più importante, che magari già non lavora direttamente su alcune cose, tutti gli altri sono scelti perché lavorano bene loro. Però poi devono lavorare e dirige agli altri che lavorano. Questo è molto complicato perché quando dedicano tempo a pensare a queste cose? Come faccio a che gli altri facciano? E quindi questa gestione online, diciamo, delle squadre mette ancora più a nudo quando si ha dei difetti di questo tipo, no? Perché parlare in vivo, in generale, molto tempo è una cosa. Parlare online è ancora più pesante. Se invece uno va su cose molto precise, la cosa funziona. Grazie mille. Vediamo, la regia ci propone un commento. Appunto Gigliola ci dice che l'autorevolezza tua, Julio, traspare in ogni singola parola e ti ringrazio appunto di come riesci a parlare con semplicità di concetti complessi, veramente da manuale. Ringraziamo Gigliola del commento e appunto la regia ci propone un commento di sovraimpressione. La domanda che volevo proporti successiva a questo tema della gestione della squadra a distanza magari va un po' più verso il mondo dello sport diretto perché appunto l'anno 2020 era l'anno olimpico, no? Quindi il sogno di ogni sportivo. Come si affronta questo grande cambiamento, quindi lo spostamento delle olimpiadi all'anno prossimo, un evento che c'è un'eventualità abbastanza epocale sostanzialmente e da un punto di vista sia per gli sportivi ma che può essere secondo me anche un consiglio per tutti quanti. Di fronte a questi cambiamenti, a queste nuove sfide, come si impara a essere resilienti? Guarda, il fatto di aver posticipato l'Olimpiada è stato secondo me uno dei segni più chiari della gravità della situazione mondiale perché non era praticamente mai successo come stato da un giro d'Italia, come stato con tanti eventi sportivi, il Palio di Siena, insomma che sono stati quasi mai sospesi. Quindi ha dato consapevolezza a tutti della gravità della situazione. Io credo, almeno io nella vita ho sempre avuto un meccanismo di pensare io sto perdendo questo, che cosa perde l'altro? Posticipare un'Olimpiada non è un dramma, un dramma è non poterla più fare. Atleti che sono infortunati alle vigili dell'Olimpiada l'hanno saltata proprio, o quando si è boicottato le Olimpiade per questioni politiche eccetera e gli atleti che non c'entravano niente non hanno potuto farla. Quello è drammatico, soprattutto in esporto che l'età è determinante e dopo non hanno la possibilità dopo quattro anni. Quindi io credo che se io avessi avuto una squadra che doveva partecipare all'Olimpiada, l'avrei detto ai miei giocatori, pensate a quelli che ci sono infortunati, a quelli che non la potranno fare, noi la potremmo fare per un anno, non è un problema molto grande. Io cerco di spiegare ai giovani sempre quello che chiamo un principio della realtà, è chiaro che la realtà non esiste in quanto tale, però nemmeno esiste un cognitivismo fondamentalista dove sulla idea reale e giusta che è l'uomo che crea un po' la realtà e che non esiste una unica realtà, poi si passa all'estremo e dice allora siccome ognuno crea la realtà, la realtà è come un uomo vuole, allora non potrebbe esistere la scienza né nulla. Però la realtà è come è, non vogliamo che sia. Quindi una volta che uno prende consapevolezza di questo, l'Olimpiada non c'è più quest'anno, c'è l'anno prossimo, devono scattare tutti i meccanismi per essere pronti l'anno prossimo. punto e basta. È inutile che ci stiamo a lagnare le cose che non hanno possibilità di essere risolte. Che tutta un'altra cosa è la protesta, la protesta, le lotte sociali, le lotte contro l'ingiustizia, non ultima questa degli Stati Uniti a cui aderisco al 100%, ossia questo ha un senso, quello possono cambiare il mondo come è successo tante volte nell'istoria. Però una cosa come questa, che tanto già è stata sospesa, basta, finito, ossia, allora cosa devo fare per essere pronta l'anno prossimo? Come mi posso allenare finché non posso entrare in palestra? Noi stiamo allenando con la prima 130 ragazze delle nazionali giornaliche, non è la selezione finale, abbiamo lasciato la prima selezione, non abbiamo fatto la seconda proprio per arrivare a molti ragazzi, ma erano insieme, con gruppi di 30, all'erano insieme in diretta con i preparatori fisici e gli allenatori. Tutti devono fare il massimo, poi se si dice, ah ma non è lo stesso che stare in palestra, ovvio che non è lo stesso, lo sappiamo tutti, ma stiamo facendo il massimo che si può fare dentro una stanza in preparazione fisica. Ah no, però non è il pesimo, siamo sicuri che non ci sono esercizi a corpo libero che possono sostituire all'80% e allora mi metto a studiare, siccome conosco i pesi non so niente di corpo libero, mi metto a studiare come l'era del corpo libero. La resilienza si sviluppa facendo, non è una magia che adesso divento resiliente perché sto sempre a vedere quello che posso fare, a vedere quello che posso guadagnare, non quello che posso perdere, a soffrire ma non subire e a fare del mio massimo sempre. Lo sport da questo punto di vista è una grandissima scuola perché lo sport, a differenza di altre attività, non basta fare le cose bene. Se io sono un medico e faccio le cose bene, se io sono un ottimo medico, un musicista o un giornalista va bene, non c'è un campionato a vedere chi è il medico migliore o il giornalista migliore o il musicista migliore. Ma lo sport sì che c'è. E quindi io faccio le cose bene, l'altro lo fa un pochettino meglio di me, o io sono stato un po' sfortunato nel momento decisivo, come può essere i calci da migliorio, e perdo. E devo recuperarmi di questo. Questo è un insegnamento per i giovani straordinari che fanno sport. E che cosa devo fare? E mi devo cominciare a preparare per la riuscita, per l'anno prossimo, perché che perda non vuol dire che non valgo, e che vinca non vuol dire che sono il migliore in assoluto. Sono stato il migliore in quella partita o in quel campionato. Questo meccanismo della competizione sportiva che ha le sue regole, il suo spirito, i suoi valori, io credo che sia di un valore educativo straordinario che prepara per la vita, dove a volte perdiamo, a volte vinciamo, ci dobbiamo recuperare, certe cose non riusciamo a vincerle mai, per altre sì. E qual è il secreto molte volte di molte persone? È chiaro che lasciamo fuori le persone in situazioni disperate, perché fare questo discorso ai rifugiati della Siria voglio dire, no, sarebbe patetico. Però molte volte sta in dire, ok, però questo l'ho avuto, questo l'ho guadagnato, questo ce l'ho. Allora molte cose che davamo per scontate prima della pandemia, oggi risulta che sono fondamentali. Allora forse avremmo vissuto meglio se prima le consideravamo fondamentali, quando le avevamo. Il poter uscire, il poter vedere gli amici, la salute, no? Allora se ci sono due cose che vengono fuori, la salute, anche se sempre si è detto che l'importante è la salute, ma quando uno è giovane non lo sente questo. Io non lo sentivo quando avevo vent'anni. L'importante è la salute, è una cosa scontata vent'anni la salute. E oggi non era più scontata. E gli affetti, gli affetti, i nonni, i genitori, gli amici che non posso vedere, i nipotini, nel mio caso che non ho voluto vedere. Ossia, uno dà per scontato queste cose e poi viene un virus e ci dice guardate che potete anche non averlo. Non averle queste cose. Allora, godiamoci quello che abbiamo avuto, godiamoci quello che possiamo avere e lasciamo lamentarsi a chi veramente è in situazione disperata. Perché se ci lamentiamo tutti e tutti chiediamo aiuto, non c'è aiuto per tutti. Quando si dice come saremo dopo la pandemia, migliori o peggiori? E saremo alcuni migliori e alcuni peggiori. Perché il punto è, cosa faremo adesso? Ognuno di noi? Come ci porremo di fronte ai problemi? Cercheremo di prendere tutto quello che possiamo perché sai, ci sta dalla pandemia e io ho sofferto molto? O saremo consapevoli che magari qualcuno di noi ha sofferto meno, come nel mio caso, e altri hanno sofferto molto di più e lasciamo che loro prendano più di quello che posso prendere io. Io credo che questa pandemia ci ha messo di fronte a queste domande che se le rispondiamo in modo giusto saremo migliori, ma se ci lasciamo portare dall'egoismo, dall'istinto solo egoista, saremo peggiori. Grazie, grazie mille. Allora la regia mi avvisa appunto che abbiamo qualche domanda, di qualche commento. La Vale ci chiede, Coach Velasco, come esperto di leadership e mentoring in ambito aziendale, qual è la difficoltà nell'assumere un efficace stile di leadership che fra i manager e i team leader ha potuto riscontrare più spesso? Ma io non posso dire di averlo riscontrato perché dovrei lavorare nelle aziende dove sono questi manager. Io posso solo, quando ho ascoltato alcuni manager, dire come presentano i problemi, che è diverso a come magari poi fanno il loro lavoro, che magari lo fanno benissimo. Io nelle aziende ho visto dei manager con una chiarezza assoluta, con un linguaggio anche se specifico tra l'azienda che tutti si vedevano, che tutti capivano, eccetera. E ho visto altre volte dove la distanza tra il leader e gli altri è molto grande e quindi la gente ascolta come i giocatori, a noi ci ascoltano, poi siamo noi che decidiamo chi gioca e chi non gioca, quindi non è che si alzano, protestano. Per uno se ne accorge quando il giocatore a uno lo segue o non lo segue, quando capisce o non capisce, quando non capisce se noi diciamo, oh non sono stato chiaro o dice, eh ma questo non capisce niente. Sono le stesse problematiche in un'azienda o in qualunque gruppo, però non posso dire che questo è così poi come loro operano, magari non sanno presentare, perché una cosa è lavorare tutti i giorni, ci sono allenatori bravissimi che magari si devono intervenire in un TED come questo, magari non sono così chiari, ma questo vuol dire che non siano altrettanto bravi o anche più bravi di me. Noi dobbiamo abituarci a capire che il cervello lavora in modo specifico, non esistono capacità generali, uno può sapere molto e poi non saperlo dire, può essere bravo a gestire le persone, però poi non sa presentare le cose in una convention aziendale, quindi non so, però delle cose che ho voluto vedere, le cose che ho detto prima, ossia che non si è chiaro, che non si dice chiaramente dove bisogna andare e cosa fare e che non se lo fa con un linguaggio capibile e che se non traspare una fiducia nelle persone, ma un'idea a volte che si dice giocate di squadra, quando in realtà quello che si vuole dire è giocate di squadra per me e noi allenatori non diciamo mai le squadre che bisogna giocare, le squadre per noi, anzi noi dobbiamo dire gli giocatori voi vi dovete allenare, usateci per allenarvi, perché poi siete voi che siete andati in campo, quindi se non dimostriamo questa fiducia che il giocatore può imparare, il giocatore se ne accorso. Chiaro, arrivano un altro paio di domande, quindi darei spazio appunto al pubblico che ce le sta inviando e appunto ci chiedono se lei ha sempre avuto a che fare con persone dal carattere complesso, ragazzi di successo con caratteri forti, come è riuscito a farsi seguire in modo così efficace? Allora, carattere complessi ce l'abbiamo tutti, parliamo di questa base, l'essere umano è complesso e questa consapevolezza già ci aiuta molto, perché se noi andiamo e crediamo che tutti i giocatori sono uguali, che tutte le persone sono uguali, che tanto devono seguire le cose che devi dire e basta, sicuramente avranno più problemi che se capiscono le differenze. La seconda cosa è che se uno vuole una squadra forte ha bisogno di giocatori, almeno di alcuni con caratteri forti, perché se vuole ragazzi che dicono signor sì, dopo quando si gioca nei momenti difficili i giocatori sono soli, io vivo sempre i giocatori, nei momenti che contano voi siete soli, non c'è tifoseria, non c'è allenatore, non c'è niente che tenga dentro di quelle linee lì, siete da soli e quindi se noi non le alleniamo, non le insegniamo, non le sviluppiamo per sapere cosa fa nei momenti difficili e quali sono quelli che sono migliori per questo? Quelli che hanno carattere forte. Ora se noi vogliamo avere uno con carattere forte, però che sia docile, che sia aggressivo, però che mai supera il limite, cerchiamo la perfezione. La perfezione non solo non esiste, sino che è da nostra proporla. Perché è da nostra proporla? Perché se io le dico a una squadra, anche i collaboratori, se siamo perfetti vinceremo, le sto dicendo che perderemo, perché tutti sanno che la perfezione è un obiettivo raggiungibile. Quindi io le devo dire, noi vinceremo anche con i nostri difetti, quindi devo accettare certi difetti di alcuni giocatori, che a volte, insomma, giovani, che giocano benissimo i momenti decisivi, ma sì, ma è un po' troppo preso da sé, ma che vogliamo? È giovane, gioca bene i momenti decisivi, non ha paura e che sia anche superumile. Insomma, può chiedere troppo. La difficoltà è stabilire qual è il limite, fino a dove lo lascia un po' andare fuori, fino a dove lo... Quello è l'arte da allenare, ma è l'arte anche di insegnare, di educare, di fare il genitore. Non le dico a tutto di no, ma nemmeno a tutto di sì. E quando è il momento di marcare una linea e questo è il territorio, se passi di qua e tagli il piede? Quando è? Qual è? Dove è quella linea? Quello va gestito. Sicuramente una linea invisibile è il senso di giustizia. Non tutti i giocatori sono uguali e quindi ci sono giocatori che magari lasciamo un po' di più fare certe cose, però non deve diventare un'ingiustizia nel confronto degli altri giocatori con carattere meno forte, perché dove diventa un'ingiustizia allora si crea un problema grave nel gruppo e nelle squadre. Grazie. Michele ci fa un'altra domanda che la Regia ci propone. Rafforzare i già forti o dedicarsi ai sotto performance che hanno il potenziale di crescita? E quale scegliere tra questi due appunto e come individuare il potenziale di crescita? Allora, io credo che bisogna fare tutte e due cose. Intanto a quelli che sono più forti bisogna riconoscerli che sono più forti, perché uno dei motivi per cui i più forti molte volte fanno le vizie è perché vogliono essere riconosciuti come più forti. Se uno lo riconosce nel gruppo e dice ok, tu sei più forte, tu sei più bravo, questo non ti deve portare a sopraffare l'altro, pretendere privilegi che non corrispondono. Cioè, una cosa e l'altra. Se io lo riconosco, allora è più facile dirlo che tu sei il più forte, uno dei più forti, ma tu puoi migliorare ancora. E proporle una cosa per migliorare, una, solo una. Quando migliora quella le proporremo un'altra. Intanto lui, siccome uno forte, cercherà da migliorare un po' in tutto, ma io le metto un obiettivo preciso. Con quelli invece che sono meno forti, meno performanti, come ho stato detto nella domanda, io innanzitutto le devo dare fiducia. Però non è che le devo dire, perché al dire lo devo sentire, perché le persone sono come i figli. Noi possiamo dire quello che vogliamo, ma loro sanno quello che noi sentiamo. Noi dobbiamo sentire che lui può fare di più, perché tutti possono fare di più. E quindi dobbiamo trasmettere questa fiducia. Però perché lui possa fare di più, io devo proporle una cosa che per lui sia facile di cambiare. Non le devo proporre quello che è la difficoltà più grande, perché si crea un meccanismo negativo. Se invece io le propongo una cosa da migliorare e lui la migliora abbastanza velocemente, si crea un circolo virtuoso. Se lui dice, ah però, allora posso cambiare, posso migliorare? E lui mi ha aiutato, quindi lo ascolterò perché con questo ho potuto. Quindi è un errore per dire in un giocatore di pallavolo che la diagonale, l'attacco in diagonale ce l'ha più o meno, la parallela non ce l'ha per niente e io le propongo subito di migliorare la parallela. Che vuol dire la palla sulla linea, l'attacco sulla linea. No, prima che migliori la diagonale, perché allora si sentirà forte, ha un colpo buono, forte, dopo affronteremo la parallela. Perché se no non si sente mai forte. Noi sappiamo che lui non è molto forte e non le creiamo le condizioni perché si senta mai forte. Creiamo le condizioni perché almeno in una cosa si senta molto forte. E questo lo stimolerà a continuare a cambiare. Chiarissimo, grazie mille. Adesso appunto in chiusura ti proporrei la domanda appunto un po' filo conduttore che stiamo usando per TEDxVicenza Live, l'altro binario, appunto in questo viaggio verso futuri possibili che stiamo immaginando grazie a voi ospiti che intervenite. Cosa ci mettiamo nella valigia per questo viaggio? Allora guarda, io ho pensato a leggere una poesia di Costantino Scabafis che si chiama Ítaca, cioè la isola di Ulisse, che per me è molto significativa. Che dice così quando ti metterai in viaggio per Ítaca devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. Il estrigone e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. En ciclopi e le strigoni non certo né nell'idatto né Nettuno incaperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti quando nei porti finalmente e con che gioia toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici induge e acquista madreperle, corali, evano e ambre. Tutta merce fina, anche profumi penetrante di ogni sorta. Più profumi inebrianti che puoi. Ma in molte città egizie impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaga, raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, che da vecchio metta piedi sull'isola, tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaga. Itaga ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo in viaggio. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaga ti avrà deluso. Fatto ormai sabio, con tutta la tua esperienza e addosso, già tu avrai capito ciò che Itaga vuole significare. C'è proprio l'importanza del viaggio, più che arrivare alla meta. Questo è un poema che sempre mi ha guidato e che gli ho dato molte volte ai giovani d'Alesio. Grazie mille per questo suggerimento. Grazie a Julio Velasco per essere stato con noi. Grazie a voi. Adesso passiamo a Nicole la linea. Sì, eccoci qua. Io anch'io ringrazio Julio Velasco. Non vorrei essere stata nei panni dei nostri Mariam ed Enrico che gestiscono appunto un po' i commenti e ogni tanto mettono alcuni riferimenti, ripetono alcuni concetti che sono stati detti durante l'intervista, perché ha detto talmente tante cose interessanti. È stato un continuo di perle davvero, che tra l'altro non solo utili allo sport, perché ovviamente si parla il riferimento allo sport è chiaro, però penso che tutte le cose che sono state dette questa mattina siano applicabili in qualsiasi team, azienda, modalità di lavoro. Quindi davvero grazie. Avremmo dovuto sottotitolarla, perché è stato detto veramente tantissime cose interessantissime. Quindi grazie da parte di tutto il team per essere stato qui con noi oggi. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie mille.